Bene, fine partita qui a Nuovo Comunale di Pugolo con il mister Marco Coppa. 2 a 1, avete tentato fino all'ultimo di raggiungere questo pareggio ma non ci siete riusciti? Non ci siamo riusciti. La Ionica ha meritato di vincere, oggi ha fatto una partita migliore della nostra. Voglio fermarmi a fare i complimenti della Ionica e non parlare di altre situazioni che hanno fatto da contorno a questa partita perché sono stati episodi da mai dire gol e quindi lasciamo perdere. Bravo alla Ionica, complimenti alla Ionica. Al di là di questi episodi, cosa è successo a Taormina? Che cosa si è inceppato nella sua squadra? Non è successo nulla a Taormina. Credo che il Taormina ha perso oggi dopo non so quante giornate che non perdeva una partita in questo campionato. Anzi, forse sono quattro totale le sconfitte in tutto il campionato. Cosa volete che dica? Cosa volete che rimproveri io e i miei ragazzi? Oggi è stata una giornata storta sotto tutti i punti di vista. Noi non siamo stati bravi, non siamo stati soliti a Taormina, ma non è successo nulla di particolarmente grave. 90 minuti a termine di questo campionato. Adesso Taormina cosa deve fare? Il Taormina deve vincere, sperando poi che il Modica e la Leonzio non vincano entrambi per tentare di accedere alla finale play-off, ma dobbiamo vincere l'ultima partita. Ancora non è finito perché con noi tutti danno l'anima, a prescindere se ci sono obiettivi o meno da raggiungere ormai alla fine di questo campionato, ma è giusto così, lo sport è questo, bisogna onorarlo fino alla fine. La Ionica l'ha fatto, ha meritato di vincere, ripeto, ora dobbiamo giocare contro il Palazzolo che è già destinato a dover fare i play-out contro il Santa Croce, però verrà Taormina convinto a giocarsi la partita e tentare di farci lo sgambetto, come succede dall'inizio di questo campionato.